Signori miei, signori miei, signori miei, benvenuti e bentornati su Dragon Ball Z Kakarot Era tanto che non dicevo questo, questo nome sono molto contento, è uscito un nuovo DLC Il risveglio di nuovo potere parte 2, che appunto ripercorre tutta la storia di Golden Freezer Quindi Goku e Vegeta hanno ottenuto poteri divini grazie alla trasformazione in Super Saiyan God Se vi ricordate, se avete visto, il Super E continuano ad avvenerarsi per superare i loro limiti Nel frattempo un esterno malvagio, tornato dai morti e desideroso di vendetta, si dirige sulla terra Detto ciò che fai? Tene privi, questo è separato dal risveglio di nuovo potere parte 1, ma puoi avviarlo a mantenere i tuoi attuali progressi Ok Siamo molto livellati con Goku, ho visto che siamo al 152 Non ricordavo mai una cosa del genere Facciamo Scusatemi Questa è la fine di Dragon Ball Z Quando Goku diventa Super Saiyan, diciamo La fine di Dragon Ball Z no, però Questa è la fine di Dragon Ball Z no, però Lei è il Goku è troppo buono Ve lo lascio guardare, ovviamente Ma che scena straordinaria E questa tutti in piedi sul divano Venivano da tutti i paesi a vedere questa scena Si vede molto bene, devo dire, non me lo ricordavo benissimo Ti ho giocato tanto, mi è piaciuto tantissimo, non so più niente Non ho neanche fatto un po' di riscaldamento per rimparare le cose Niente Dragon Ball Z no, non so più niente Dragon Ball Z no, non so più niente Vi ricordate che loro stavano facendo qualcosa Se non erro, Goku non c'era Forse Non mi ricordo, sapete Non mi ricordo Infatti Giuga lì al solito Sai lì alla loro forma di Super Saiyan God Alla vostra testa Ok Dai, no paura Scusi Dai Tanto ti supererò comunque Non mi ricordo mai Non posso vedere niente Scusatemi Non mi ricordo Va bene, dai B Questo è il giro Mentre la volta di difficoltà della metà Tiene una mente Inizialmente la metà spezza limiti Super le tue debolezze Sconfiggi Vis Voglio vedere Non so Niente Non mi ricordo Aspetta Aspetta Ah Dio, 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 dio Aspetta Non so cosa sto facendo Siamo pazzi Mi toglie un disastro di roba Dai, 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 dai Gli tolgo pochissimo Devo Rimparare Però adesso che rimparo Easy, 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 easy Questo qua è pazzo Madonna, madonna, madonna Super Saiyan God Ah, ah, ci senti Quanto mi sta togliendo, brother Non mi ricordo Sfera Siamo Ho paura adesso No, abbastanza Non vedo Non vedo niente Non vedo assolutamente Io sto morendo È un disastro totale Pugno del drago Ho vogliato Fanno un god No, vabbè Perché gli faccio sempre la stessa Dove lo sto tirando Ah, qua muoio Purtroppo muoio stavolta qua Devo dire, allora Per essere la prima volta Di nuovo Non è andata male Stavolta potremmo quasi farcelo Dove li Mostro Allora Pugno del drago Spera Oddio Signor È finita Mi fa saltare in aria Però Non può Tutte volte Ok Solo È finita È finita broda È finita Broda Cioè Dilagnato Non ho neanche sentito Aumento di livello Cioè proprio Devastato Devi prenderci un po' la mano Perché non mi ricordavo i comandi Non mi ricordavo nulla Non so adesso più le serie di combi roba Di mosse Quindi Questo episodio sarà un po' così Spero che duri più di un episodio solo E farlo durare un quarto d'ora Più o meno Un episodio breve ma più Belli da vedere Parla Inizio l'allenamento Ah lo sai Perché Qual è il problema Acqua divina Ah 140 Insomma 153 Non è Mostro Eh però Non è possibile Pugno del droga no Questa Ma non lo prendo neanche Corre 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 Easy Tolgo pochissimo Corre Gendi Vai 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 Mostro Oh Doppia La sfera così È una bomba Adesso mi do Devo muovere però Mi devo muovere tantissimo Anche perché devo Mi ha tolto non tanto di più Però la sfera la fa sempre Lo zio Andato Ok Ok easy proprio Proprio pulito 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 100 100 1.785.000 Siamo al 154 Così E vi so Sai Questa è una bomba 3 4 4 4 5 5 5 5 5 6 7 Eh, lui è più forte di noi, ma di brutto Non vedo, non vedo Sì, vabbè, ha degli attacchi della madonna Super Saiyan God Non ho supporto Ho preso Eh, mi ha rotto la guardia Ce la posso ancora fare Eh Me l'ha, me l'ha, me l'ha bloccata Ok, allora ci senti Ci senti Ok 151, qualche livello più in basso E siamo Devo cercare di attaccarlo di più Nel corpo a corpo, usiamo solo Mosse di questo tipo e non è Non è bellissimo, quindi dobbiamo forse Cercare di 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 attaccarlo un po' più corpo a corpo Un po' più forte Mostro Oh Man mano che Ok Mossa che legna Oh signor, oh signor Posso solo schivarlo così Non ho possibilità Il bang attacca è il mio attacco più forte Ok Madonna Stivo, mannaggia Eh, mi fa un male, non finisce più Quattro vita ancora Questo è l'attacco più forte che ho Il problema è che Da così lontano Non so cosa sia successo Tre vite Eh, ciao America Che problema che il suo attacco non si ferma con me Eh Eh, l'ho preso un bel po', eh Ho delle possibilità, eh Ce le ho un po' No, ti prego No, ti prego No, ti prego No, ti prego Yes Oh signore Ho vinto ma proprio per tanto così, eh Ho vinto per tanto Dammi il 152, fai il gentile Oh, bene Per tanto così Non rimane che troppo Il tuo potere che ho avuto tutto Voglio un po' vedere Scrivetevi al pennello Non è sicuro E non è sicuro E non è sicuro Cacca rotto Non ce lo possiamo perdere Molta paura Ci siamo, bro Ci siamo, bro What's up, man? What's up, man? Ci siamo Ci siamo Signori, io direi che l'appuntamento di oggi è finito qui, però ci possiamo vedere il prossimo video Ci cacciamo, ci cacciamo, ci cacciamo